che hanno permesso nel finale di acciuffare questa vittoria. Sì, per noi è una vittoria importantissima e per questo siamo molto contenti. Vincere in questo campionato, per lo più in trasferta, è sempre molto molto difficile. Oggi in particolare l'Eurobasket, che è allenata in maniera eccezionale da coach Nunzi è riuscita a martellare sia dal punto di vista offensivo e a lavorare dal punto di vista difensivo su quelle che oggi sono le nostre debolezze e ha fatto venire fuori un nostro lato in cui facciamo fatica a compattarci e prendere energia se non riusciamo a giocare bene in attacco. Questa è una cosa che dobbiamo assolutamente migliorare, però il carattere mostrato nel secondo tempo e di conseguenza la qualità della prestazione che è salita nel secondo tempo per noi sono aspetti da tenere stretti perché siamo riusciti a giocare in maniera solida proprio quando la partita era sul filo e siamo riusciti a fare soprattutto in difesa una serie di buoni possessi limitando Taylor e lasciando tiri da fuori abbastanza contestati. Quindi per noi questa è una vittoria veramente importante e da parte nostra sia come staff che come giocatori che come club insieme a Un Pensiero questa vittoria va dedicata a tutte le persone della nostra zona, della provincia di Alessandria che in questi giorni stanno subendo veramente un grosso disagio, grosse perdite a causa del maltempo che sta veramente devastando alcune zone proprio tortone e dintorno.